Il giudizio non è positivo in ordine all'attuale attività amministrativa della giunta messinese ritenendo le attività troppe volte non coincidente con i principi programmatici del movimento stesso e di due giorni fa la presa di posizione da parte del gruppo consigliare Grillino che in una nota sottolinea inoltre che volendo portare avanti quanto espresso nel programma elettorale 5 Stelle che riteniamo essere la mappa per il cambiamento della città e ritenendo il lavoro della giunta non coincidente con l'orientamento programmatico il gruppo prende le distanze dall'azione fino alla svolta della giunta e chiede al sindaco e agli assessori di assumere tempestivamente le opportune azioni volte a realizzare quanto espresso nel programma elettorale Oggi il sindaco dice la sua E' chiaro che noi siamo stati presi in questo periodo da tutta una serie di attività e giustamente sono stati forse non comprese determinate azioni perché giustamente ci vogliono determinati tempi Non c'è nulla quindi essendo che l'amministrazione è operato per il bene della collettività sicuramente sarà un disguido che si potrà chiarire tranquillamente Ma non si poteva chiarire anche prima questo disguido invece di ricorrere comunicati stampa? Ma questa è una scelta loro, ritorno a ripetere Sono persone intelligenti e stanno come lavorare per il bene della città quindi quando l'obiettivo è comune sicuramente il problema non esistono Ma c'è condivisione tra lei, la sua giunta e il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle? Ma noi abbiamo un programma che abbiamo sostenuto tutti quanti insieme che è quello che stiamo perseguendo Naturalmente ritorno a ripetere che l'attività che sta facendo questa amministrazione è abbastanza intensa Non ha i tempi di una normale amministrazione dove i formalismi, dove le sedute dove magari si discute parecchio ma magari si concretizza poco non fa parte del DNA di questo tipo di giunta Quindi magari questo tipo di comunicazione è mancata Ma fra le altre cose, continuando che parliamo del Movimento 5 Stelle mi rendo conto che il dialogo non può avvenire anche in altri modi perché si può tranquillamente in chat o per altre vie che i mezzi moderni ci possono dare Non c'è nemmeno questo Quindi non ho ben capito per quale motivo Tra l'altro che il problema è quello di interfacciarsi con il sindaco e vogliono che io vada a chiamarli per ogni volta Ma questo qui, ritorno a ripetere, è un problema più loro che mio perché io non ho problemi di parlare con nessuno